benvenuti ragazzi in un nuovo video questa è la seconda parte dello spacchettamento del box di pokemon x y furie volanti se non avete visto il video precedente vi consiglio assolutamente di andarlo a vedere perché abbiamo abbiamo trovato tanta bella roba io direi ciancio alle bande e bando alle ciance iniziamo subito con questa seconda parte allora prendiamo subito primo pacchetto ormai signori conoscete questi pacchetti che fine fanno vengono disintegrati allora 123 e questo pacchetto me la sento buona io non vorrei dire nulla buono ad esempio post allenatori non è male vediamo un po nato un mezzo pull art dratini e ciao mega riguazza ex signori mega riguazza ex al primo pacchetto non è possibile non ci credo non ci sto credendo non ci non è possibile ma che ma che box abbiamo trovato fantastico fantastico wow mega riguazza ex al primo pacchetto bellissimo bellissimo porta veramente fortuna questo box porta veramente fortuna andiamo con questa scia vediamo un po se riusciamo a trovare subito qualcos'altro allora ma allora su tutte fuffette beh questo ormai le conosciamo dal video precedente se lo sia se lo avete visto mega turbo che articuno mezzo full art ok dai tralasciamo tralasciamo altro pacchetto veramente bello mega riguazza primo pacchetto non ci sto credendo speriamo di trovare a questo punto vedendo l'andazzo un bellissimo shimin magari pure full art e non sarebbe male non sarebbe male circon reverse e oh bellissimo deoxysolo questo è veramente bello mi piace ha molto stile bello una holo così non male non male wow wow già una ex e una holo mi sta piacendo questo box moltissimo allora codice da parte 1 2 3 e vediamo allora pelipe revitalizzante togetik ok binacle spiro dump race come si chiama trovate tutte ok niente da fare ci sta ci sta un pacchetto un pacchetto vuoto di intermezzo direi che nei prossimi tre pacchetti di trovare qualche altra ex direi che sarebbe alquanto alquanto bello allora lenti scelta grande lenti non mi ricordo come si chiama della carta binacle spiro dance place so skyfield e sadhu campo aereo in italiano mi pare campo aereo che è molto utile cioè fondamentale per il mazzo mega riguazza non drago ma normale che 240 danni praticamente assicurati avete 8 pokemon in panchina con campo aereo e devastate chiunque praticamente andiamo avanti mega turbo continuiamo praticamente il mazzo mega riguazza ok p dove swablo buttiamoli casco in reverse e togekiss ok questa rara è da bruciare andiamo avanti questo è l'ultimo dei tre pacchetti allora qua dobbiamo per forza trovare la ex se no non va bene comincia a non andare bene allora vediamo un po 1 2 3 revitalizzante altaria dustox ok p dove warpol togekiss reverse e banette mezzo full art ok niente non posso difenderlo sto pacchetto perché faceva schifo non mi è venuto niente in mente ok 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 sto vedendo qualcosa ho visto qualcosa trainer mail ok post allenatori ottimo va bene andiamo avanti tutte carte stupide ex segretor reverse e mega latios ex bellissima questa carta bellissima ok ci siamo ci stiamo riprendendo seconda ex della seconda metà del box ottimo così perfetto dai 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 già siamo due draghi ok mega riguazza mega latios entrambi mega entrambi drago fantastico continuiamo ci servirebbe veramente uno shiming e sarebbe il box più bello in assoluto drati electric articuno reverse e clefky wow ok questo non è il clefky che si gioca mi pare ho visto usare un clefky come strumento mi pare metti capo questo clefky e lo assegni come strumento qualcosa del genere come il palloncino esplosivo ecco però non mi sembra quello continuiamo col nostro spacchettamento e vediamo spiro reverse e anfezzant ok dai due pacchetti di stacco ricominciamo da qua i tre pacchetti e dobbiamo trovare qualcosa vediamo un po' vediamo un po' pelipe scambio un altro dragonair ok wingul ok electric reverse e la rara è un altro altaria ok ok uno dei tre è andato vediamo un po' secondo per vincere la scommessa ok distruggiamo tutto qui ma mia cade a pezzi cade a pezzi sto pacchetto a posto ho levato tutto e forse ho visto qualcosa forse ho visto un'olografia allora skyfield ok campo aereo inkay binacle aulucha ok dragonair reverse molto bella e oh 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 bellissimo lino full art bellissimo mi è piaciuta questa ottimo ottimo così wow è veramente bella come carta ragazzi veramente veramente bella e diciamo che l'abbiamo vinta la scommessa facciamo così non so che abbiamo scommesso niente vabbè sti cazzi scommettiamo un codice ok vi regalo un codice al prossimo andiamo così cascon miau nato mezzo full art miau e resci ramolo bello bello questo resci ramolo veramente ormai sono rimasti pochi pacchetti credo cinque cinque ok ultimi cinque pacchetti mega riguazza come artwork vediamo un po' che cosa riusciamo a trovarci codice per voi eccolo qua messo nel cestino e oh oh ho visto qualcosa o era solo una carta reverse vediamo un po' revitalizzante legame mentale nato nincada ok mi sembra nato mezzo reverse mezzo full art e mega gallatex ok avevo visto bene wow oh due di fila praticamente perché c'è stato un pacchetto di mezzo wow ottimo mega gallatex bellissimo bellissimo signori ultimi quattro pacchetti ormai tutti e quattro artwork diversi cominciamo con mega gallatex perché ci ha portato molta fortuna vediamo un po' vediamo un po' che se questi ultimi quattro pacchetti ci regalano la magia dello shiming e veramente ragazzi vi regalo i prossimi tre codici se lo troviamo allora quattro no tre allora legame mentale con riguazza gliscor tranquil nato nincada gliscor incai grandi lenti e shedinja ultimi tre ok vediamo che cosa riusciamo a trovare sempre il trick per far salire l'hype gliscor switch scambio giustamente in italiano eeeh dan sprays dustok reverse e la rara uno scarmory ok possiamo anche bruciarlo vediamo vediamo un po' penultimo pacchetto deoxys come artwork dai portaci fortuna deoxys portaci fortuna un'altra energia doppia ok un altro campo aereo ormai penso che abbiamo fatto il set credo spiro revive ee talon flame niente da fare ultimo pacchetto mega riguazza portaci fortuna almeno tu dai ti abbiamo trovato nel primo pacchetto facci la magia anche dell'ultimo sempre se lo riesco ad aprire ok ci siamo distrutto a posto vediamo un po' ultimo pacchetto andiamo lenti rocco silcon che cazzo è non mi ricordo wagon execute fletching pikachu ninca da reverse la rara abbiamo un altro zapdos ok niente da fare per questi ultimi pacchetti ma vi faccio vedere che cosa abbiamo trovato ed è stato veramente fantastico mega riguazza al primo pacchetto ragazzi questo non ci ho creduto mega latios bellissimo uno degli artwork più belli che abbiano mai fatto questo questa si commenta da solo lino full art bellissima non ho parole e come ultima mega gallaid x signori io vi lascio con questa visione stupenda vi ricordo sempre che se il video vi è piaciuto di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per prossimi spacchettamenti online e in real e niente che dire noi ci vediamo in un prossimo video